Pronto? Ciao Max, sono Carlo. Ciao, dimmi, come va? Tutto bene, tutto bene. Ascolta, avevamo intenzione di girare il video di quella cosa che hai arrangiato su due respiri di Chiara. Sì, sì. È presente. Quando e dove lo fate? Lo facciamo in riviera, al mare, in costume, una cosa simpatica. Sì, costume, al mare, in spiaggia? Eh, c'ho il pezzo, parla di quello, dove lo giri, se no. Ascolta, quando è che lo fate? Questo lunedì. Lunedì, aspetta, devo andare dal parrucchiere alle 3. Sì. Dal parrucchiere alle 3 alle 4 a farmi le unghie. Le unghie, sì. E poi, secondo me, io in spiaggia non sono molto così interessante da vedere, quindi eviterei. Vabbè, non c'è ciabatta, non c'è infreddita. Non c'è ciabatta, non c'è infreddita, non c'è infreddita. Qui sulla spiaggia, per me, colpa del sole che mi ha tradito. Brucia la sabbia al dé, col dé, per la mia pelle, crema solare, c'è già qualcun che mi darà. Ma sotto i piedi è tutto diverso, la pianta brucia come una bomba atomica. Perché un guenti non ce n'è, al caro pene, carboni ardenti sotto di me, e niente creme. Siamo dei fachiri, in preda ai deliri, per venirle bene. Ci piondiamo in acqua e lì stai bene. E qualche bagnante dice che in fondo l'unico segreto è non soffermarsi più di un secondo, ma poi correndo si rischia che qualche conchiglia, se non fai attenzione, finirà dentro di te. Oltre bruciata, anche tagliata, urla che sentono fino a cattolica. Perché un guenti non ce n'è, al betadine, e la mette agli enti sotto di me, senza ciabattine. Siamo dei fachiri, in preda ai deliri, per venirle bene. Ci fiondiamo in acqua e lì stai bene. Stai bene. Però scusa, Max, i parrucchieri lunedì sono chiusi. Sono chiusi? Eh sì. Vabbè, allora vado dal podologo. Mi ero scordato che volevo il podologo. Vabbè, ciao. Ciao, ciao, ciao.